Ok No, abbiamo un bonfire, un botto, abbiamo il titano che è un po' lentino No, neanch'io, prima voglio capire cosa ha lui, anche perchè siamo contro un vincente Ecco, lì un botto lo investirei volentieri però Verde e blu, o almeno Così pare, eh sì, pare proprio di sì Due non sono casuali Lotus cobra Due e uno, farei bonfire da uno Ti piace? Sì, infatti, meglio tenere lui giù Eh sì Molto Noi saremmo forti a vedere terra Esatto Se posso scegliere palude Sono dei rampanti Aia Mi ha saltato l'endrop Saltare l'endrop non mi piace Però si è rifatto con l'elpo Gli abbiamo sparato un uccello del paradiso e un lotus cobra Veramente? Sì Porca puttana, era un buco di culo quello lì Eh, deve aver impostato un mazzo così, si vede che ha preso i ciccioni E rampa Stappato, prende tre mana Cosa fa con tre? Zenith da due Rofellus Rofellus Però conta per ogni foresta Ok, vai Cot Cot, però lui gli fa tre danni Possiamo mandarlo? Beh, lo mandiamo più uno Va... Sì Per forza Più uno Vabbè, no, volevo cercare di preservare l'emblema Ma... Perché? Che non mi ha fatto attaccare Peccato Ora ho sbagliato Vabbè Boh Il primo misclick Il primo misclick della serata, del torneo Lui comunque ha già Uno, due Cavolo Per ogni foresta Vabbè, non ne ha foresta Lui ha due Ah, questo ci fa male Questo ci fa male Eh, sì Attacca Cot Sì Uno, uno Se noi facciamo meno due Ci dà terra Cot, eh Aia Ci dà mana per far Titano Prova a vedere Quanti mana ti dà Per ogni montagna Per ogni montagna Si, facciamo Titano Si, ci sta Cavolo Cavolo Allora, spariamo Al lupo A master Due È un 3-3 Ok Abbiamo fatto una cosa cattiva Si, ancora sei carti in mano Non che ti abituare Perché lui ha due Tre, quattro Cinque mana Disponibili Grande C'è la data Ottimo 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 Bravi Via per game Ok Game 2 Ahi Dobbiamo C'è un'inquisizione No Rischiosissima Io ma ligherei Si Va bene Si, un po' meglio Si, si Dai C'è Magma Jet C'è Earthquake Price of Progress No, va bene Dai Subito elfo Price of Progress Per ogni terra non base Si Eh, ok Si 2 per ogni terra non base Va bene Dai È già sparato Quell'elfo lì Spero che tiri un altro 1-1 Che facciamo Earthquake da 1 Lotus Cobra Guarda C'è già una terra No, non dividi danni Che cos'è? Che cos'è? Ah Poi scarto due carte A meno che non scarto una terra Compulsive Research Dai Aspettiamo a fare Earthquake Aspettiamo, sì Peter Blossom Entra Che bello Abbiamo anche Price of Progress Già in Canna Fa due danni per adesso Non è in granché Costituzione 2 Costituzione 2 2-2-2-2-2-2 Sì È una roba che si prende un Earthquake Esatto Perché? Però gli cavi Gli cavi il rampante Sì Gli cavi tutto Sì 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 Fai due per uno Sì No, si back Earthquake Questa è quella che fa esiliare Allora Sì Da due Che non prende le creature volanti Esatto No Debolezza da evocazione Sì Non so come funziona Me lo spieghi Non ho letto tutto il papiro Ok Ah ok Ok Che palle Va bene Noi gliela togliamo con questo Ha ripreso l'effetto Che la rimette giù Sì Tanto Price of Progress è da 4 danni Intanto Intanto Noi cerchiamo una Montagna Sì uguale Attacchiamo Perché? Vabbè Volevo fare prima Vabbè Io preferisco sempre fare le magie prima No Invece è sbagliato sai? Perché dopo rischi di sbagliare No ma sai che elettronicamente ti sbagli Di cliccare Ecco Ok Uh Vrasca Di Unseen Ecco vedi che lui rampa E ti rimane Dai allargati finestra Il primo Niente Niente Non si allarga la fine Ecco Quello lì al settimo Quello al sesto Quel flying shroud Iiii c'è 3,4,5 Togliamo Vrasca Sì Bello 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 Poi dopo spariamo anche quella cosa lì Ah lui è un totore mistico Instant sorcery Facile Con cosa? Avrà forse quello che rimescola permanente nel mazzo C'è anche il nero Non è un mariscorario Underground Sì Sì Quello che metti in gioco non è un 3-3 Però metti Ha un top Ha un top Quindi Quindi Questa vola vero? O no? No Un 1-1 Ah quindi non ci dobbiamo attaccare Sì Sì Esatto Esatto Ha preso lo zenith Ok È il nostro turno? No È il suo Grande Eh sì Eh sì Sì è una fetch Beh lui risposta Ne facciamo 5 Si tira giù una giga Però noi peschiamo fireblast Sì Dopo Esatto Allora calma Calma Con Chandra Gli spacchiamo Rofellos Sì Sì Parude E Chandra Possiamo anche fare Più No Non possiamo fare Duplicatore Spacchiamo Rofellos Anche perché Puoi attacchiamo Con tutto Sì Direi che così L'abbiamo rallentato Definitivamente Perché Dui Speriamo Aveva la fetch Lui sfetceva A prendere l'altra terra doppia Io gusto Noi abbiamo Fireblast Price of Progress Abbiamo 10 danni in canna Dopo Lui aveva Sì Anche fireblast Con duplicatore Abbiamo un disastro No Secondo me Non ci salta più fuori Cos'ha? Fa lo stesso Niente No Ha perso Si si Ha perso Facciamo Price of Progress Calma Ha perso Ha perso Non può Si è giusto Va 11 Duplichi Price of Progress E tiri Fireblast Duplichi Sì Bravo Uno nero E uno rossa Vabbè che poi Non c'è Non c'è E' morto allora Sono 5 No è instant No sacrifici Due montagne Costa 6 Oppure sacrifici Due montagne Grande Ragazzi E' finale